I nostri amici, però c'è ancora uno, non so quanti anni fa, ma è noto in questo periodo, il re di rock and roll, Mr Elvis Presley, prego un tubo, ho detto un tubo, nessuno, vergogno. Oh, yeah. Ah, ma che bella, non vengono tutto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.